Riso. Proprietà, benefici e controindicazioni. Buongiorno a tutti, oggi parleremo di un alimento fondamentale nella dieta di molte culture, il riso. Originario dell'Asia, il riso è ricco di proprietà nutritive che contribuiscono al nostro benessere quotidiano. Prima di iniziare il video, ti invito a mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per non perdere le ultime novità su alimentazione, benessere e cucina salutare. Ora, immergiamoci nel mondo gustoso del riso. Il riso è una fonte ricca di carboidrati complessi, che forniscono energia al nostro corpo. È anche una buona fonte di proteine, importanti per la crescita e la riparazione dei tessuti. Ma non solo, il riso è un alimento a basso contenuto di grassi e di sodio. Tra i minerali presenti nel riso, troviamo potassio, fosforo e magnesio. Il riso è anche una fonte di vitamine del gruppo B, come la B1, B2, B3, B5 e B6, fondamentali per il metabolismo energetico e il corretto funzionamento del sistema nervoso. Anche la fibre sono presenti nel riso, in particolare nel riso integrale. Queste aiutano a regolare la funzione intestinale, riducono l'assorbimento dei grassi e dello zucchero, contribuendo a prevenire l'obesità, il diabete e le malattie cardiache. Ma veniamo ai benefici. Grazie alla sua composizione nutrizionale, il riso è un alimento che favorisce la digestione. È utile per chi soffre di gastrite e aiuta a prevenire la stipsi. Le fibre presenti nel riso favoriscono la digestione e possono contribuire al mantenimento di un intestino sano. Inoltre, il riso contribuisce a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. Il riso è anche un alleato della pelle. Grazie alla presenza di antiossidanti, contribuisce a contrastare i segni dell'invecchiamento e a combattere i danni dei radicali liberi. Non solo, l'amido contenuto nel riso ha proprietà lenitive e rinfrescanti. Per quanto riguarda le controindicazioni, il riso bianco può causare un aumento dei livelli di zucchero nel sangue, quindi dovrebbe essere consumato con moderazione da persone con diabete. Inoltre, il riso può contenere arsenico, un metallo pesante potenzialmente tossico. È importante sempre ricordare che il riso, come tutti gli alimenti, deve essere inserito in una dieta equilibrata e varia. Non bisogna mai esagerare con le quantità e scegliere, ove possibile, il riso integrale, più ricco di fibre e nutrienti. In conclusione, il riso è un alimento versatile e nutriente che può essere utilizzato in molte ricette. Dalla preparazione di risotti, alla realizzazione di dolci e insalate, il riso è un ingrediente che non può mancare nella nostra cucina. Incorporare il riso nella nostra dieta quotidiana può portare molti benefici alla nostra salute. Ricordatevi sempre di fare le scelte alimentari più sane e di consultare un professionista della salute, se avete dubbi o preoccupazioni. Vi invitiamo a dare un'occhiata alla descrizione del video. Troverete il link al nostro negozio su Teasily, dove è disponibile una vasta selezione di prodotti, tra cui grembiuli divertenti, shopper bag funzionali e tanto altro per il benessere. Se avete trovato questo video utile, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi al nostro canale e condividere con chiunque possa trarre beneficio da queste informazioni. Non dimenticate di iscrivervi per non perdere i nostri futuri video, mettere mi piace se avete apprezzato questo contenuto e condividere con i vostri amici e familiari. La vostra supporto ci aiuta a continuare a condividere informazioni utili sulla salute e la nutrizione. Grazie mille per averci seguito oggi. Continuate a fare scelte alimentari consapevoli e, come sempre, restate sani e felici. Ci vediamo al prossimo video! Grazie a tutti!